Sabato e domenica la pineta di Ponente si anima per il Festival dello Sport Città di Vareggio. 50 realtà sportive ed altrettanti stand, due parchi, esibizioni, interviste, tornei ed una gabbia da MMA per assegnare il titolo di campione italiano Xetrem Fighting Championship. Per gli amanti del running torna la Puccini Alf Marathon in una 10 km competitiva che si snoda per le strade di Vareggio ed una parterra di ospiti prestigiosi, atleti, dirigenti, influencer e giornalisti sportivi per un totale di 15 ore in interrotte di interviste. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale, largo spazio alle associazioni del territorio che potranno mettersi in mostra sia sulla pedana centrale che nei rispettivi stand a loro dedicati e messi a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale. Una vetrina d'eccezione per farsi conoscere e far provare la propria disciplina ai visitatori che si vorranno cimentare con i vari sport. Poi anche presentazioni di libri, quello ero l'uomo ragno di Walter Zenga, l'oro di Lucca di Paolo Bottari, lo stadio dei Pini, una memoria condivisa dell'associazione culturale Orgoglio Bianconero. L'ingresso al festival è gratuito per assistere alle attività ospitate sui palchi forniti di posti in platea sarà necessario il Green Pass. Il Festival dello Sport è un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale per schierarsi al fianco delle tante associazioni sportive che escono o sperano di poter finalmente uscire da un anno e mezzo davvero difficile a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia. Hanno aderito 50 associazioni, ci saranno altri stand, durante i due giorni sarà possibile provare tutte le attività sportive, questo per cercare di dare loro un'occasione di visibilità per farsi conoscere, per promuovere anche le discipline più particolari.